SOS Arezzo TV, caro Beppe Marconi, questa sera lo dedichiamo purtroppo alla sentenza di fallimento della Cantarelli, siamo con Guido Guiducci qui alla CGL di Arezzo, immagino tanta amarezza Guido di fronte a questo scenario che purtroppo in parte ci si aspettava, in parte no. Noi tutti speravamo che la conclusione potesse essere diversa, io sono sei anni che conosco queste persone, che lavoro con questa RSU, che ho sentito negli ultimi tempi veramente il disagio e la sofferenza per un futuro incerto che purtroppo oggi è diventato il peggiore. Sì, ma tutte queste offerte che si erano prefigurate nel periodo intercorrente tra il concordato e poi purtroppo il fallimento, non c'era concretezza, visto che non sono state prese in considerazione. Sembrava che potessero essere la panacea per risolvere questo problema, invece? Io qui devo dire che a noi non è stata mai data l'opportunità di conoscere nel dettaglio i piani industriali di chi si è rappresentato e di chi ha vinto poi la gara. Dire ha vinto la gara magari può essere improprio, ma risulterebbe, per quanto ci hanno detto anche l'ultima volta che ci siamo visti al Ministero dello Sviluppo Economico, che il commissario Romagnoli aveva intenzione di proporre l'assegnazione e il Ministero in quell'occasione richiedeva un supplemento di istruttoria rispetto a questa proposta di assegnazione. Noi ci siamo sempre affidati, io questo l'ho detto anche sempre alle persone, pur contestando l'estrema riservatezza di tutti gli attori di questa procedura, ci siamo sempre affidati alla garanzia costituita dalla procedura stessa, cioè dall'autorità ministeriale, dal commissario nominato dal Ministero, quello che abbiamo sempre contestato a tutti, ai funzionari del Ministero e al commissario. E qui vado a chiudere, ma è il nocciolo della questione per quanto mi riguarda, perché io rappresento persone, vite, il lavoro di queste persone e le loro vite e le loro famiglie. Quello che abbiamo sempre contestato come organizzazione sindacale è quello di non avere reso sufficientemente partecipi i lavoratori dei processi e dei percorsi che si sono svolti in questo periodo. Non dico che si dovesse violare il necessario segreto per proteggere la regolarità delle aste, io dico che sarebbe stato necessario condividere in maniera maggiore con le persone certi passaggi. Sì, perché poi potevate anche intervenire voi come sindacato e anche i lavoratori potrebbero intervenire se c'era qualche problematica per cercare di limarla, per far sì che l'offerta senza fosse ritenuta fattibile. Invece questo non l'avete potuto fare. Da questo punto di vista voglio ribadire un concetto che ho espresso anche nell'assemblea di mercoledì scorso. Il bando, come è stato costruito, era un bando a nostro modo di vedere soddisfacente. Perché? Perché era un bando che ribadiva la necessità di mantenimento della territorialità dell'impresa, la necessità di un piano industriale che prevedesse conservazione dei posti di lavoro e sviluppo. E assegnava dei punteggi coerentemente con questa filosofia. Vede, il concetto è che io non ho mai chiesto di partecipare alle discussioni con gli offerenti nel rispetto dei ruoli. Io ho sempre chiesto e noi abbiamo sempre chiesto che perlomeno ci fosse maggiore comunicazione con le persone perché, ahimè, queste procedure non sono fatte solo di codici. Sono fatte anche di carne viva. Io non ho mai avuto l'ambizione di giudicare al posto del Ministero dello Sviluppo Economico la validità di un'offerta o la serietà di un imprenditore. Una volta che condivido i contenuti delle regole di ingaggio di questa gara, ho sempre chiesto e ho giudicato e continuo a giudicare un errore gravissimo, quello di non avere considerato la sensibilità delle persone in questo percorso. Perché oggi si ritrovano con un pugno di mosca in mano il decreto di fallimento depositato senza capire nel dettaglio ma cos'è successo negli ultimi due anni e mezzo? Qualcuno ce lo dovrà spiegare. Sì, sarà difficile che ve lo spiegano a questo punto perché intervengono altre persone che non hanno seguito questa fase e quindi questa fase va a sparire, va a scomparire e adesso vi troverete davanti ai decoratori fallimentari con i quali poi, coloro i quali saranno interessati all'operazione dovranno trattare. Sicuramente nella migliore delle ipotesi penso che se arriveranno dei compratori ci vorrà del tempo perché la fabbrica possa riaprire e sicuramente aprirà anche con altre caratteristiche e quindi assumerà che gli pare, lo sai benissimo come funziona e quindi avranno dei progetti ben precisi. Speriamo che ciò avvenga, vedo che in un altro caso tipo la del Tonga ancora si parla, si parla, si parla, è passato tanto tempo e non siamo a niente ancora. Sì, ci sono gli interessati mentre gli aspettano che tutta la procedura burocratica vada avanti e ti dico io è molto lunga perché l'ha fatta anche dall'altra parte con lo curatore fallimentare. Quindi ci sono dei paletti, dei tempi che devi aspettare. Quindi sicuramente anche se avremo un interessato importante ci vorrà del tempo perché la Cantarelli possa riaprire e non ci sarà in quali condizioni. Purtroppo per i lavoratori. E questa è una maghezza grande che ci rimane per queste famiglie, per queste persone. Assolutamente. Una volta c'erano l'Iri, oggi l'Iri non c'è più. Mi verrebbe da dire l'Iri tutta la vita, ma la battuta mi serve per esprimere un concetto nel quale io credo profondamente bisognerebbe sul serio cominciare a porsi il problema di quello che è strategico in questo Paese dal punto di vista dell'attività di impresa. Io credo che manchi questo tipo di riflessione. Cioè io capisco l'interesse per un certo tipo di attività industriale che può avere un valore nazionale, penso banalmente all'ILVA, ma mi chiedo, nel Paese del bello, del bello italiano, concetto rispetto al quale noi ci vantiamo di produrre le cose più belle del mondo e che questo sia realmente un brand, il made in Italy, io da sindacalista, da partigiano nell'interesse del lavoro e dei lavoratori che rappresento mi chiedo ma allora è o non non è strategico, strategica questo tipo di attività, la manifattura della moda. Oggi noi abbiamo perso ad oggi tantissime professionalità e tantissime imprese senza che nessuno proponesse un piano industriale nazionale per salvaguardare questo tipo di attività che è storicamente una delle attività più importanti del nostro Paese. Mi rendo conto che questo ragionamento intercetta ragionamenti macroeconomici a sua volta che diventano difficili da declinare in termini di politica nazionale, ma forse è il caso di porselo questo problema. Io non dico di arrivare agli eccessi del Presidente degli Stati Uniti, ma una tutela vera del nostro made in Italy rispetto alla concorrenza spietata che c'è in giro. Rendersi conto che un'impresa tessile con 30, 40, 50 persone è una grandissima impresa oggigiorno. Ecco, queste sono le cose dalle quali magari bisognerebbe ripartire. Sono belle riflessioni, però sarà dura. Oggi purtroppo ci sono altri obiettivi, altri problemi, soldi non ci sono, ti dicono che soldi non ci sono, poi non abbiamo questa mentalità aperta come c'è lui, quindi di conseguenza le imprese falliscono purtroppo. Grazie a Guido, grazie a Beppe Marconi, torneremo sicuramente a parlarne, buona segata.